Che vergogna ragazzi, mamma mia, che vergogna, cioè non c'è altro da dire, è veramente una partita vergognosa, cioè io mi vergogno, mi vergogno della squadra per cui tifo, non per la squadra fiorentina, perché la fiorentina la tiferò sempre, anche se si andrà in Serie D, se si fallirà la squadra, se si chiamerà un giorno Accendino FC, cioè io la tiferò sempre, ma che vergogna per dove siamo arrivati, per dove si era una volta, dove siamo adesso. Bisogna fare complimenti alla Roma ragazzi, io alla Roma gli faccio tutti i complimenti e tutti i migliori auguri per il futuro, perché all'inizio dell'anno erano partiti male, erano partiti decisamente male, e in qualche modo Fonseca li ha ripresi, li ha presi proprio a braccetto, a braccetto, tutti insieme, e li ha fatti diventare una grande squadra, che gioca, macina, macina gioco, non si ferma mai, anche sui 3-1, 4-1, volevo insegnare tutti. E poi cinica, perché nel primo tempo hanno tirato due volte in porta, due volte hanno tirato la punizione di Kolarov e il gol di Dzeko sull'assist di Zaniolo davanti alla porta e non poteva sbagliare. Quindi hanno qualità, hanno giocatori, noi non abbiamo niente, niente di tutto questo, niente, nulla, non abbiamo qualità, non abbiamo giocatori. Se ne salva in tutta la squadra, proprio 3 o 4, ma proprio se tu li vuoi trovare. Comunque, io a Montella non gli voglio dare colpe, perché oggi, secondo me, per le nostre possibilità, non abbiamo giocato male. Secondo me contro il Lecce e contro il Verona si è giocato di merda, perché si era contro il Lecce e contro il Verona, non per dire che sono delle squadre del cazzo, perché in questo momento sono pure loro superiori a noi, però per la squadra che sono, per i giocatori che hanno, insomma, per l'organico che hanno, noi siamo superiori. E quindi perdere contro queste squadre, anche in casa per l'appunto, vedi il Lecce per esempio, è una cosa che non si può accettare. Perde contro la Roma ci sta, ma perdere così male no, perché comunque ti fa capire che c'è proprio un distacco incredibile tra noi e loro, veramente una cosa abissale. E sinceramente io a Montella non gli voglio dire niente, io non so cosa vorrà fare la società in questa pausa, insomma, di Natale, Capodanno. Io voglio solo che Commisso, Barone, i su figlioli, i cazzi vari, ci pensino per bene, ci pensino per bene, cerchino le soluzioni loro. Magari in questo mercato di gennaio si va a cercare, che cazzo di italiano ho usato, insomma, a cercare qualche giocatore, diciamo, per rinforzare la rosa, per aumentarne la qualità, perché, ragazzi, il centrocampo, parliamoci chiaro, Badel i piedi ce li ha, e per carità, i piedi ce li ha, ma è lento, non sbaglia troppo. Pulgar, secondo me, era partito molto meglio all'inizio dell'anno, adesso si è perso. L'unico che rimane è Castrovelli, che, se c'è nel senso, regge da solo il centrocampo, e meno male che è esploso tutto insieme, perché se non sapeva manco lui, pensa te. Davanti io do ragione a Montella, per una volta io, una cosa, voglio dare ragione a Montella, che all'inizio dell'anno, no, lo si criticava tanto perché metteva solo Ribery e Chiesa davanti, e diceva, ma dove è la punta? Noi si diceva, dove cazzo è la punta? Dov'è Vlaovic? Dov'è Pedro? Dov'è Boateng? Tutta sta gente. Poi Boateng, per carità di Dio, eh, però vabbè. Io ora ho capito perché, ho capito perché, perché cazzo non la mettono dentro nemmeno con le mani, cioè, nel senso, oggi Vlaovic non ha giocato nemmeno male, però cazzo, cioè, nel senso, figliolo, cioè, ha avuto anche sfiga, ha preso anche una traversa, solo e tu ti devi migliorare. Pedro oggi veramente niente, cioè, nulla, è entrato in campo al sessantesimo in trenta minuti, avrà toccato quattro palloni e li ha persi tutti, contro Mancini l'ha chiuso sempre, quindi super, super, super Roma, ragazzi, no, è veramente una vergogna, vergogna, vergogna. Non so, non so neanche cosa dire, sono proprio amareggiato, c'ho proprio un'amarezza dentro, non perché si è perso, ma perché tanto sapevo che si perdeva, quindi ovunque l'avevo già messo in conto, ma perché si vede proprio la differenza dell'organico, della squadra tra noi e loro, ma si vede tantissimo. E ora capisco perché noi siamo laggiù e loro sono lassù, in classifica, perché c'è proprio una differenza abissale, loro c'hanno tutto l'organico che gira, noi non ci sa nessuno che gira, non c'è niente, non abbiamo un gioco, non abbiamo un'idea, lanciamo lunga la palla, passiamo davanti, il pallone avlavo e c'ho Pedro, sperando e la mettano dentro. La Roma non fa così, non passa la palla a Giacomo e spera che si scarti tutta la difesa e va a segnare. Loro creano, e anche tipo sul terzo gol, sul gol di Pellegrini, si erano sette contro due e loro ci hanno fatto girare la testa. Cioè Pezzella, Albert, Lirola e Milenkovic stanno a cercare ancora il pallone lì in difesa. Io niente ragazzi, non so veramente cosa dire, non so veramente cosa fare. Meno male, guarda, c'è questa pausa, almeno ci si schiarisce un po' in un'idea e speriamo di ripartire per bene, perché così non si arriva nemmeno alla salvezza, facciamo veramente cacare ed è veramente dire poco, veramente cacare. Niente ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ho fatto il video della live reaction, quindi almeno domani ve la potete gustare. Spero di farlo uscire entro domani, dove la devo montare tutta. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video e nulla. Se tante volte non ci si dovesse rivedere per un altro video, anche se dubito, credo comunque di farlo. In generale, buon Natale a tutti e buon 2020 quando arriverà il 31. Ciao ragazzi, sempre Forza Teola.